Qualche irrazionale timore girava in città da qualche giorno, ma è lo stesso presidente dell'Arezzo Giorgio Lacava a confermarci di aver avviato proprio nella giornata di giovedì le procedure per tutti i pagamenti previsti dalla scadenza del 17 febbraio. La prima di due date da segnare in rosso sul calendario, l'altra sarà a marzo e sarà di poco superiore come cifra. Il presidente Amaranto, a cui sono arrivate le voci di timori relativi al rispetto delle scadenze, si è detto deluso da questo clima di sfiducia. È proprio vero, ci ha detto, che Arezzo fa passare con il tempo l'entusiasmo, come mi aveva detto qualcuno all'inizio della mia avventura. Comunque non è un problema, è una mia società e ci mancherebbe che non rispetti le scadenze. Strano che quando i bonifici arrivavano in passato da Londra o da chissà dove nessuno si faceva problemi ed ora che arrivano dall'Italia tutta questa diffidenza. Sono sicuro che il 17 arriveranno sorprese da altre piazze su mancati pagamenti. La cava precisa come il famoso attivo di mercato di cui aveva parlato Pieroni nella conferenza stampa di settembre è finito da un pezzo. Altro che coperti fino a marzo, aggiunge, sono circa quattro mesi che ha finito, lo dimostrano i continui finanziamenti che ho messo. Il presidente Amaranto preferisce non commentare ulteriormente le voci di trattative per l'accessione della società. Tra le righe si percepisce però che tutto sia in stand-by e che traspare ancora una volta un po' di delusione per l'atteggiamento degli interlocutori che si presentano. Infine trova conferma dallo stesso presidente una variazione all'interno dell'organigramma. Pieroni è passato dalla carica di direttore generale a quella di vicepresidente per l'area sportiva. Una modifica che secondo la cava non ha alcuna rilevanza. Ermanno è stato bravissimo a cedere tutti quei giocatori a fine mercato. In pochi ci avrebbero creduto. Pensiamo piuttosto a vincere a Busto Arsizio. Sono ancora convinto che faremo un grande girone di ritorno.